Ben trovati l'ATG della mobilità, approvato dalla giunta Capitolina il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Colombo e Via Canale della Lingua nel decimo municipio, una delle intersezioni considerate a massimo rischio e individuate grazie a un lavoro congiunto tra Assessorato alla Mobilità Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità. Le altre notizie a Montemario, intervento di bonifiche in corso sulla panoramica, la strada riaprirà domani alle 16.